Quando ci troviamo in una situazione che dobbiamo fare un colpo di recupero, come in questo caso troviamo qui, abbiamo tre opzioni. Una, prendiamo un ferro della nostra sacca, impugnandolo con una mano, ci affianchiamo alla palina e con un movimento breve, come appena farò adesso, e la facciamo uscire. La seconda opzione, prendiamo il nostro sandwich, girando la faccia e anche impugnando all'inverso, cioè mano destra sopra e mano sinistra sotto, tentiamo di prepararci sulla pala per realizzare un colpo d'approche a mancino, in questo modo. E per ultimo, se la situazione è veramente difficile, possiamo optare sempre per la regola 28, pali ingiocabile. Alla prossima!